Iniziamo con una relazione riguardo alla partita. È stata una bella serata, una partita ben giocata, con coraggio. La squadra ha una sua identità, sono molto contento di questa vittoria. Avevamo qualche assenza importante ma il gruppo è riuscito a sopperire anche a questo e tutti hanno fatto una grande prestazione. Quindi molto buona avevamo. Perché abbiamo bisogno di questi giorni. Ci sono un giorno molto, anche buona, ma anche abbiamo avuto un buon giorno. Quindi abbiamo avuto un buon anno. Quindi abbiamo avuto un buon anno. E abbiamo avuto questa volta. Abbiamo anche quello che ci sono molto attivo. Abbiamo molto molto a questo. Grazie a tutti.